L'ASSEM, azienda San Severino Marche Spa, dal 1 gennaio 2016 prenderà in gestione il servizio idrico integrato di alcuni comuni dell'Alto Maceratese. Ne abbiamo parlato con il presidente Claudio Brunacci. Adesso gestiamo appunto il servizio idrico integrato, cioè quindi sia la fognatura che la depurazione che l'acqua potabile, nel comune di San Severino Marche e inizieremo a gestire dal 1 gennaio i comuni di Gagliole, Castelraimondo, Pioraco, Fiuminata e Ussida. Mentre invece prima gestivamo la depurazione nel comune di Gamerino che poi smetteremo perché il servizio idrico verrà affidato ad un'altra azienda. Ecco, per i comuni che prenderete nel 2016 quali servizi offrirete a questi comuni? Beh, il servizio idrico integrato appunto, cioè gestiremo noi completamente dal servizio dell'acqua potabile alle fogne e alla depurazione.